Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Mirko e questo è un nuovo video. Magicamente siamo già arrivati a luglio e questo significa che oggi andremo a vedere insieme quali saranno le novità che ci aspetteranno per questo, a quanto pare, caldissimo mese estivo. Quello di luglio sarà un mese di pochi ma buoni, infatti le uscite che sono riuscito a rintracciare per questo mese, sia per quanto riguarda il mercato italiano, che comunque è un discorso che possiamo fare in ogni mese dell'anno, ma soprattutto in questo caso appunto nel mercato straniero, americano, eccetera eccetera, ecco non ci sono poi così tante uscite, ma è estate quindi è normale che le uscite liberia diminiscono drasticamente, visto anche comunque le tantissime novità che abbiamo visto in questi primi mesi del 2021. Ma nonostante questo, luglio si prospetta un mese di poche appunto ma grandissime, grandissime, grandissime uscite. Prima di andare a vedere quali saranno le novità che ci aspettano per il mese di giugno, voglio soffermarmi su tre o quattro titoli che potrebbero interessarvi e che non avevo citato nello scorso video delle nuove uscite, quindi quello di giugno e che usciranno proprio alla fine di giugno. Non erano state appunto rese note queste uscite ai tempi e quindi ci mettiamo una pezza sopra e ne parliamo all'inizio di questo video. Detto questo io direi di cominciare immediatamente. E partiamo da Love Boy Story di Cristina Lauren, uscito il 24 giugno per leggere editore. Forse la copertina e il titolo di questa versione italiana potrebbero non dirvi niente, ma la copertina e il titolo originale invece qualcosa potrebbero dirvela, perché si tratta della traduzione di Autobiography, un libro con tematica LGBT+, un romanzo young adult, uscito ormai qualche tempo fa ma che comunque su internet, su YouTube in modo particolare, ha avuto un certo seguito. Nel romanzo seguiremo la storia di Tanner, un ragazzo bisessuale che si trasferisce dalla California allo Utah per frequentare l'ultimo semestre della scuola superiore. E questa è un'idea che lo rende particolarmente felice, perché Tanner non vede l'ora di lasciarsi tutto alle spalle, di partire per il college e letteralmente cominciare a vivere una nuova vita da zero. Prima di questo però il suo migliore amico lo sfiderà a partecipare a questo seminario in cui gli studenti si impegnano seriamente a scrivere, a sviluppare, a mettere giù un romanzo entro quattro mesi. Per Tanner l'idea di scrivere un romanzo in quattro mesi è la cosa più semplice del mondo, tutti quanti possono farlo. Tanner compreso. E proprio qui conoscerà Sebastian. Sebastian è un ragazzo prodigio, è un ragazzo mormone che l'anno precedente ha venduto i diritti del suo romanzo. Ovviamente Tanner si innamorerà di Sebastian e seguiremo quella che è la loro storia e lo sviluppo appunto di questa conoscenza tra i due. Questo era un libro che all'epoca a me incuriosiva davvero tantissimo, ma che non ho mai letto e ad oggi non credo che comunque farò. Però se eravate incuriositi e vi interessava, ecco, sta arrivando anche in Italia con questo titolo e con questa copertina che io personalmente, parere del tutto personale, trovo davvero molto, molto discutibili. Ma ok. Completamente in sordina per PM il 29 giugno è uscito il nuovo romanzo di Rebecca Ross, l'autrice che forse conoscete già per la duologia sempre pubblicata da PM, La Regina del Nord. Questo nuovo libro si chiama Sorelle di Spade e Incanto, un libro di cui abbiamo già parlato l'anno scorso quando uscì appunto in America e che arriva completamente dal nulla anche in Italia. In breve ci viene raccontata la storia di queste due sorelle, Al Sion e Evande. La prima sta per tornare a casa dopo otto anni di servizio presso l'esercito della Regina. Il ritorno di Al Sion a casa però non era come Evande aveva immaginato. Infatti si scopre che Al Sion è in fuga, è stata accusata di omicidio e per questo deve essere condannata. E nel cercare di limitare la condanna di Al Sion, Evande si prende metà della colpa e da qui in poi nascerà tutta quanta la storia. Nonostante io abbia davvero apprezzato il primo libro di Rebecca Ross, ovvero Ragina del Nord, devo dire che questo secondo libro non mi interessa moltissimo. Un libro che sembra si ispiri in qualche modo alla Grecia antica o alla Roma antica, però ecco, a parte questo, devo dire che la trama non riesce, non è mai riuscita a conquistarmi, quindi nonostante uscirà anche in Italia, credo che passerò. Però per chi magari ha apprezzato la prima duologia di Rebecca Ross e vuole leggere altro, ecco che è arrivato e disponibile in Italia questo nuovo romanzo. Il 29 giugno per Oscar Volt è uscito L'assistente di volo, che va a raccontarci la storia di Cassandra Bowden. Un assistente di volo, come ci suggerisce il titolo, con questa passione spropositata per l'alcol che lei nemmeno riconosce e sa di avere nell'effettivo e dopo una serata passata tra un drink e l'altro si risveglia in una camera d'albergo a Dubai, con zero ricordi di quello che è successo la notte prima e i dubbi cominciano ad assillarla ancora di più quando a fianco a lei ritroverà il corpo morto dell'uomo con cui ha passato la notte. Che cosa fare? È stata lei ucciderlo? Non si ricorda assolutamente niente di quello che è successo, nel dubbio Cassandra scappa. E questa appunto è la storia che ci viene raccontata. Io non so se leggere o meno questo romanzo. In verità sono molto curioso perché ho già visto la serie che ne è stata tratta, che è andata in onda su HBO Max, con protagonista Kaeli Cuoco, come potete vedere anche dalla copertina del libro. Mi è piaciuto moltissimo, devo dire mi ha davvero divertito, perché oltre appunto a raccontare una storia drammatica allo stesso tempo e anche messa in maniera molto divertente, e ovviamente si parla di dipendenze, delle forti dipendenze della protagonista. Non so che cosa fare, sono molto molto indeciso, però mi fa piacere che comunque anche in Italia sia arrivato. Non credo fosse stato tradotto prima, credo che sia appunto un romanzo inedito portato per la prima volta in Italia, comunque nel dubbio c'è questa edizione dell'Oscar Bolt. Sempre il 29 giugno per Oscar Bolt è uscito il ciclo della cultura di Ian Banks. Questa è la prima trilogia che viene pubblicata attraverso questo drago nella collana Urania, e io non conosco moltissimo del ciclo della cultura, ho sempre sentito parlare di questo romanzo come uno dei classici, praticamente, della fantascienza. L'unica cosa che so è che la cultura è questa società ideale, questo futuro immaginato da Banks, che potrebbe essere in realtà magari nei prossimi anni. Devo dire che mi ha incuriosito, ma visto tutte le cose che ho da leggere non credo che lo metterò in TBR nel prossimo futuro. Bene, detto questo, adesso passiamo ufficialmente alle novità di luglio. E partiamo con il botto, ragazzi, perché torniamo a parlare di Oscar Bolt. E finalmente, diciamolo tutti quanti in coro, il 6 luglio arriverà la nuova edizione del primo volume della trilogia di Mistborn di Brennan Sanderson. Il 6 luglio finalmente arriverà l'ultimo impero, il primo volume della trilogia di Mistborn pubblicata da Oscar Bolt con questa meravigliosa edizione. Drago, che io non vedo l'ora di stringere tra le mie mani, sapete quanto io aspettavo una nuova edizione di Mistborn, anche perché quella vecchia è quasi introvabile, mi era sempre molto difficile alcune volte consigliare la trilogia di Mistborn e finalmente adesso non abbiamo più scuse. Tra l'altro vi avviso già che quando uscirà, appunto, partirà anche un gruppo di lettura qua sul canale e poi ovviamente lo leggeremo separatamente, ma poi ci sarà una live in cui potremo parlarne tutti quanti insieme. Io sono molto contento di questa cosa, darò maggiori informazioni del gruppo di lettura sul mio Instagram, quindi, ecco, tenete d'occhio le stories perché potrebbe arrivare delle novità tra qualche giorno. Io, ripeto, sono molto molto contento, mi rende estremamente felice questa notizia, stavamo aspettando da tantissimo tempo questa nuova edizione e finalmente, eccola qua. Si tratta, ovviamente, del primo libro della trilogia. Molte volte mi viene chiesta questa domanda. Ogni volta che ho pubblicato sulle storie di Instagram una foto o un riferimento a questa nuova edizione di Mistborn da parte di Oscar Volta, mi è stato più volte chiesto ma è tutta la trilogia? Pubblicheranno tutta la trilogia? Questo è il primo libro della trilogia, l'ultimo impero. A seguire, poi, verranno pubblicati separatamente il secondo e il terzo volume. Quindi, per adesso, accontentiamoci di questa prima uscita che io, devo dire, è già una grandissima conquista. Io sono molto contento, va benissimo così e, appunto, tenete d'occhio Instagram perché partirà tra poco il gruppo di lettura e lo leggeremo tutti quanti insieme. Non si è il tempo di respirare in questo video perché sempre se luglio e sempre per Oscar Volta esce Arro la Nona, il secondo libro della trilogia iniziata con Guido la Nona, notizia che ha reso, ovviamente, me felicissimo ma sicuramente renderà felici anche molti di voi visto che questo è un libro che tanti stavano aspettando visto il finale e le cose che sono successe in Gideon questo secondo capitolo sembra promettere davvero tante, tante cose. Molto, molto contento anche di questa uscita che non vedo l'ora di leggere, ovviamente. E se pensi luglio arriva Anyway the Wind Blows di Rainbow Rowell il terzo e credo ultimo volume di quella che adesso è a tutti gli effetti una trilogia iniziata appunto con Carry On trilogia che poteva tranquillamente essersi conclusa con il primo libro e poi ciao perché il secondo, diciamo non è poi tutto questo grande capolavoro da questo terzo libro sinceramente non so che cosa aspettarmi non so se lo leggerò in inglese perché per ora è solamente un'uscita in inglese e poi sicuramente arriverà prossimamente anche in Italia per PM che ha pubblicato i primi due libri però devo dire che non ho tutta questa grandissima necessità di leggerlo staremo a vedere però la copertina mi piace moltissimo. Altra grandissima uscita per quanto mi riguarda che arriverà sempre il 6 luglio questa era una delle uscite young adult che attendevo di più per questo 2021 e sto parlando di Six Crimson Cranes di Elizabeth Lynn ovvero l'autrice della duologia Spin the Dawn e questo a tutti gli effetti è un libro che viene ambientato nello stesso mondo di Spin the Dawn ma che con quella storia non ha nulla a che fare a quanto sempre anche perché questo è un retelling dei cigni selvatici cosa che a me rende particolarmente contento aspettavo moltissimo questo libro proprio per questo motivo visto che è un retelling della favola dei cigni selvatici il romanzo racconta la storia della principessa Shiori che ha un segreto che deve mantenere necessariamente nascosto ovvero nelle sue vene scorre la magia è proibita e questo è un segreto che Shiori riesce a mantenere piuttosto bene fino a quando durante la cerimonia del suo fidanzamento con un ragazzo che lei non desidera assolutamente questi poteri le fanno perdere il controllo e quindi si manifestano ovviamente questi poteri non passano inosservati e la matrigna di Shiori la bandirà dal regno trasformerà i suoi fratelli in gru e la lascerà con una minaccia ovvero non dovrà raccontare nessuno di quanto è successo e ogni volta che le sfuggirà a qualche dettaglio uno dei suoi fratelli verrà ucciso e durante il viaggio questo esilio che porterà Shiori alla ricerca dei suoi fratelli si imbatterà in questa cospirazione c'è qualcuno infatti che vuole conquistare il trono e ovviamente distruggere il regno e solo Shiori imparando a padroneggiare quelli che sono in suoi poteri potrà in qualche modo portare la salvezza del regno io sono molto molto incuriosito da questo romanzo ancora non so se dovrei prima leggere la duologia di Spindedon ma da quanto so appunto sono due storie che semplicemente condividono un mondo in cui vengono ambientate per il resto sono storie che hanno ecco personaggi completamente diversi quindi non lo so comunque sto di fatto che davvero mi incuriosisce tantissimo e sono molto molto curioso di vedere come l'autrice ha gestito questo retelling che io tanto tanto amo in salvezza di luglio abbiamo poi What We The Vor di Lindsay Miller questo è un titolo che mi ha particolarmente affascinato perché la protagonista del romanzo è Lorena una ragazza che all'apparenzo sembra normalissima come tante altre lavora per questa agenzia di pompe funebri andrà in sposa al suo mio amico e questa è una cosa che accetta di buon grado perché preferisce questo piuttosto che il suo segreto venga svelato Lorena ha un dono un dono molto pericoloso molto particolare e molto misterioso perché dentro di lei scorre il potere dei due e dei banditi e il principe ereditato del trono farà di tutto per sfruttare questo dono di Lorena in modo che la porta che tiene prigioniero il dio vile non venga riaperta la trama di questo libro mi ha affascinato immediatamente sembra un libro molto molto atmosferico molto cupo molto dark con questi personaggi grigi che ecco sembrano promettere davvero tanto credo che comunque prima o poi gli darò un'opportunità magari prima vedrò qualche recensione ma la trama mi ha particolarmente incuriosito ok le prossime due novità mi hanno trovato particolarmente sorpreso perché non me le aspettavo nessuna delle due e sono strettamente collegate la prima infatti è Ready Player One che in Italia era già disponibile per De Agostini che ritornerà appunto il 13 luglio per Oscar Vault con una nuova edizione inflessibile con questa copertina che io amo particolarmente e sempre il 13 luglio per Mondadori uscirà Ready Player Two di Ernest Klein ovvero il secondo libro, il sequel di Ready Player One però con un'edizione diversa da quella proposta da Oscar Vault ovvero una normale edizione rigida e non ho capito molto questa mossa cioè a questo punto potevamo tranquillamente far uscire tutti e due inflessibile non so come funziona la cosa ma va bene così nonostante io abbia apprezzato moltissimo Ready Player One è un libro che consiglio molto che farà particolarmente piacere a tutti gli amanti dei nerd delle citazioni, dei videogiochi perché è un libro che al suo interno ha così tante appunto citazioni, riferimenti che è bello poi easter egg che è bello rintracciare del secondo libro che ammetto non se ne sentiva la necessità in partenza perché il primo libro comunque si conclude con la sua storia e va bene così ecco il secondo libro ha ricevuto delle critiche abbastanza feroci all'estero e sinceramente già non mi interessava in partenza ma appunto dopo queste recensioni non molto positive ho veramente scartato l'ipotesi di poterlo leggere però arriverà anche qui in Italia come ho detto il 13 luglio per Mondadori altra uscita meravigliosa che mi ha reso particolarmente felice e anche sorpreso perché non mi aspettavo sarebbe uscito in così breve tempo il 13 luglio per Oscar Volta arriverà La Casa Sul Mare Celeste di T.J. Cloone ovvero The House in the Civilian Sea che forse già sapete è stato uno dei miei libri preferiti dell'anno scorso La Casa Sul Mare Celeste è uno di quei libri che mettono un po' d'accordo tutti è una di quelle storie che in qualche modo ti travolgi in questo abbraccio caldissimo e non ti lascerà mai andare è un romanzo che attraverso la sua storia, i suoi personaggi le sue tematiche, i suoi messaggi ti scalderà in qualche modo il cuore io ve lo consiglio caldemente vi prego leggetelo, amatelo sono sicuro che in qualche modo è uno di quei romanzi universali va bene per tutti quante le fasce d'età in qualche modo si troverà sempre quell'appiglio che ve lo farà amare incondizionatamente e in brevissimo non dovete sapere nient'altro racconta la storia di questo assistente sociale che verrà mandato in questo orfanotrofio dove ci sono dei ragazzi dei bambini con dei poteri che sono degli esseri altrettanto particolari e ecco dovrà un attimo capire tutta quanta la situazione leggetelo e sempre di TJ Klune il 13 luglio uscirà anche Flashfire ovvero il secondo volume di The Extraordinary che in Italia ancora non è arrivato è una storia di supereroi sempre a tematica LGBT plus io vorrei leggerlo perché come sapete TJ Klune è un autore che mi piacerebbe comunque leggere ulteriormente purtroppo nel 2021 ancora non gli ho dato un'altra possibilità ma spero di farlo al più presto e parliamo di un'altra ripubblicazione perché il 15 luglio per fazzi uscirà Il Circo della Notte di Erin Morgenstern ovvero l'autrice del Mare senza stelle libro che era stato già pubblicato in Italia per Rizzoli ma che la fazzi riporterà appunto in Italia con questa nuova edizione con questa nuova veste grafica che devo dire apprezzo particolarmente anche se forse la copertina originale secondo me è imbattibile nonostante la ricalchi tantissimo se non avete ancora letto Il Circo della Mezzanotte vi consiglio anche qua caldamente di farlo è una storia anche qui molto atmosferica ambientata in questo circo si parla di magia ma si parla di tanto altro è un libro con tanti livelli è un libro sicuramente pieno di metafora è un libro da capire è un libro che va accettato per quello che è ma veramente consigliatissimo il 20 luglio esce poi il nuovo romanzo di Laura Sebastian autrice che forse alcuni di voi conosceranno per la sua trilogia Young Adult Fantasy Ash Princess trilogia che io ho sempre voluto leggere tantissimo mi ha sempre incuriosito ma che non ho mai fatto e questo nuovo romanzo Half Seek of Shadows è una rivisitazione anche qui del ciclo arturiano una rivisitazione del ciclo arturiano dove andremo a seguire più da vicino la nostra protagonista sarà un personaggio che forse nel ciclo arturiano non è tra i più conosciuti ovvero Elaine di Astorat conosciuta anche come Elaine la Bianca devo ammettere che mi ha incuriosito moltissimo questo aspetto del libro cioè raccontare questo personaggio del ciclo arturiano che io devo dire non conosco assolutamente però non credo che comunque leggerò il romanzo anche se la copertina devo dire è molto bella di Laura Sebastian continua ad ossessionarmi la trilogia che è stato il suo debutto tra l'altro che credo appunto non sia niente di che ma ho questo tarlo da anni nella mente prima o poi meno leggerò sempre il 20 luglio arriva poi Red Wolf di Rachel Vincent un'autrice la Vincent che io ho già letto nella mia adolescenza è più famosa per romanzi urban fantasy paranormal romance cose del genere ma questa volta si butta su uno young adult che ovviamente come potete capire dalla copertina e dal titolo è un retelling di cappuccetto rosso il terzo in due mesi va bene la trama non ve la sto manca a dire sempre la stessa solfa però ce lo mettiamo se vi interessa andatevi a leggere la trama ma comunque è sempre la stessa cosa e ok arriviamo a un'altra delle bombe di questo video perché finalmente possiamo dirlo in corone una liberazione dirlo per me il 20 luglio uscirà She Will Became The Sun e questa cosa sapete mi rende particolarmente contento perché significa che molti di voi potranno leggerlo per ora si tratta di un'uscita americana è stato già annunciato per Oscar Vault e quindi verrà tradotto in Italia non sappiamo quando speriamo il presto possibile ma per ora uscirà il 20 luglio in America quindi molti potranno leggerlo e potremo parlarvi finalmente insieme quindi allargare lo sclero ad altre persone e questo mi rende estremamente soddisfatto io non vedo veramente l'ora che tutti quanti possiate leggere questo libro e ripeto spero che riuscirà a toccarvi davvero tantissimo e a e che riusciate in qualche modo ad apprezzare questa storia ed amarla tanto quanto l'ho amata io perché davvero questo per me è un libro difficilmente dimenticabile è una di quelle storie che proprio sono talmente tanto viscerali forti e potenti che è impossibile comunque non rimanendo in qualche modo convolti e anche sconvolti quindi finalmente esce e siamo tutti molto felici io per primo sempre il 20 luglio abbiamo This All of Us di Lexi Ryan un fantasy young adult che viene descritto come il principe crudele che incontra Akotar dove seguiremo la storia di Bri questa ragazza che prova un odio smisurato nei confronti dei Fai odio che si intensificherà quando sua sorella viene rapita dal re della corte Ansidi Brini e il tentativo di salvare sua sorella stringere un accordo con il re della corte Ansidi ovvero intrufolarsi segretamente nella corte Ansidi e recuperare tre antiche e magiche reliquie questo è un libro che io sto tenendo d'occhio in verità da un po' di tempo perché mi aveva incuriosito moltissimo la copertina e io so che dentro di me questo è uno di quei libri che ok tutto quanto però hai altre cose da leggere Mirko quindi lascio a perdere ma dentro di me ho quel tarlo di cui parlavo prima che continuo appunto a sessionarmi fino a quando magari non la leggerò quindi ipoteticamente potrebbe essere magari una futura lettura non lo so non so nemmeno che cosa aspettavo ma già appunto partendo dal presupposto che viene scritto come un principe crudele che incontra Akotar I don't know però potrebbe rivelarsi magari invece una grandissima scoperta non è idea ovviamente già come suggerisce la copertina credo ci sia un grandissimo triangolo tra i tre personaggi non lo so tanti cliché vedremo staremo a vedere il 22 luglio per fanuccio abbiamo una grande uscita nel panorama fantasy per quanto mi riguarda quello che si prospetta essere una grande uscita ok e sto parlando della Foria dei Draghi di Ivan Winter questo è il primo libro di una saga epic fantasy di ispirazione africana che io ho già acquistato ormai un po' di tempo fa in inglese lo vedete qua dietro un libro che mi intrigava tantissimo e che purtroppo non ho ancora letto la storia si apre con questa eterna battaglia che il popolo me sta combattendo ormai da 200 anni e in questo mondo esistono persone con delle capacità magiche alcune più forti di altre ci sono delle rarissime donne che riescono a richiamare a sé i draghi altrettanto rari invece sono i maschi che riescono a trasformarsi in queste potentissime temibili macchine da guerra e in tutto questo contesto si muove la storia di Itao un ragazzo privo di qualsiasi talento che desidera condurre una vita tranquilla in serenità ma ovviamente il destino ha dei piani in serbo per lui e le cose non andranno come Itao aveva sperato perché l'unico impulso che spingerà Itao ad andare avanti sarà questo desiderio di vendetta fortissimo nei confronti delle persone che l'hanno tradito come vi dicevo inizialmente questo è un libro che io desidero leggere davvero tantissimo e che da una parte ho sentito o sannare dall'altra invece ci sono delle recensioni piuttosto in contrasto che ancora non sono riuscito a decifrare del tutto sicuramente però voglio farmi come sempre un'opinione mia soprattutto con questi libri che desidero leggere davvero tantissimo ma che appunto non vengono apprezzati su larga scala staremo a vedere sta di fatto che arriverà anche in Italia per Fanucci spero con un'edizione comunque decente la copertina intanto è quella italiana la copertina intanto è quella originale quindi questo è un passo avanti staremo a vedere poi sicuramente quando e se lo leggerò ne parleremo insieme il 27 luglio arriva poi Gods and Monsters di Shelby Maurin ovvero l'ultimo e conclusivo libro della trilogia iniziata con Serp and Dove un libro che sicuramente molti di voi stavano aspettando questa è l'uscita appunto americana ma dovrebbe arrivare comunque entro la fine dell'anno anche in Italia per Orper Collins dovrebbe essere già stato annunciato non ricordo precisamente la data semmai se è uscita ve la scriverò in sovraimpressione e per concludere sempre il 27 luglio uscirà Small Favors il nuovo libro di Erin A. Craig ovvero l'autrice della casa di lacrime e sale uscito in Italia per Fanucci e anche questo uscirà in Italia per Fanucci ma ad agosto il 27 con il titolo Piccoli favori il libro è ambientato in questa piccola cittadina di montagna dove vive la nostra protagonista Ellery quella di Ellery è una vita tranquilla e serena che però verrà stravolta dall'arrivo di questa tribù fatta di strane creature chiamate osservatori oscuri gli osservatori sono queste strane creature che possono soddisfare qualsiasi tipo di desiderio l'unica cosa che chiedono in cambio è appunto un piccolo favore e Ellery per cercare di salvare suo fratello la sua famiglia e comunque tutta la cittadina dovrà capire chi si nasconde dietro il capo di questi osservatori la trama mi ha lasciato particolarmente perplesso perché non ho ben capito il punto di questo libro che comunque non credo leggerò ho già letto La casa di lacrime sale della Craig che mi è piaciuto ha delle belle atmosfere era il punto forte del libro e anche in questo caso sembra comunque un libro estremamente atmosferico ma non so appunto se lo leggerò o meno però in caso vi interessasse appunto uscirà anche in Italia il 27 agosto quindi a un mese di distanza per fanucci e queste erano le novità che ci aspettano per il mese di luglio come vi ho detto poche ma davvero molto 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 buone ce ne sono alcune che non dovete assolutamente lasciarvi sfuggire quindi io spero che questo video vi sia stato utile che abbiate trovato qualcosina ci sono da cose da leggere questo mese ragazzi ce ne sono davvero tantissime abbiamo praticamente una TBR completa con Missborn Arla Nona She Who Became the Sun ovviamente la casa sul mare celeste insomma ce ne sono davvero tantissime ditemi che cosa vi interessa maggiormente se magari c'è qualche uscita che non ho citato di cui non ho parlato che state aspettando con impazienza e noi ci vediamo a un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti